Il Vangelo cambia il cuore, cambia la vita, trasforma le inclinazioni al male in propositi di bene. Così oggi Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus. Commentando il brano evangelico di questa domenica, che presenta Gesù e la sua piccola comunità di discepoli a Cafarnao, il Pontefice ha ricordato che il compito dei cristiani è diventare missionari e eraldi della parola di Dio, nutrendosi ogni giorno del Vangelo. Troppo spesso, infatti, vengono pronunciate parole vuote, che non corrispondono alla verità, mentre la parola del Signore ha la forza di stupire e cambiare il cuore delle persone. Il Vangelo è parola di vita, non opprime le persone, al contrario, libera quanto sono schiavi di tanti spiriti malvagi di questo mondo, sia lo spirito della vanità, l'attaccamento al denaro, l'orgoglio, la sensualità. Alla fine della preghiera mariana, il Pontefice ha annunciato che il prossimo 6 giugno si recherà in visita a Sarajevo, capitale della Bosnia e d'Herzegovina, per incoraggiare i fedeli cattolici, suscitare fermenti di bene e contribuire al consolidamento della fraternità e della pace. Nella giornata della vita, celebrata oggi in Italia, Papa Bergoglio ha poi espresso apprezzamento per quanti difendono la vita umana, perché quando ci si apre alla vita e si serve la vita, si sperimenta la forza rivoluzionaria dell'amore e della tenerezza, inaugurando un nuovo umanesimo, l'umanesimo della solidarietà.